Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, il mio canale che si promette di farmi raggiungere la mia indipendenza finanziaria attraverso la mia crescita personale, finanziaria e dei miei investimenti e del risparmio. In questo video vado a continuare un po' il video che ho realizzato in passato sui miei anni vissuti in Irlanda andando a trattare un argomento ben specifico, il mondo del lavoro, quello che un po' molte volte interessa le persone che vanno a spostarsi in un altro paese appunto è proprio questo aspetto, cioè andare a trovare un lavoro per raggiungere una condizione economica che sia migliore rispetto al paese che si è lasciato. Ovviamente quello che devo premettere è che non tutti i paesi sono perfetti e comunque non esisterà mai il paese perfetto e questo lo voglio dire perché avendo lavorato sia in Italia che nel Regno Unito che in Irlanda so benissimo che ogni nazione ha i suoi pregi e i suoi difetti per cui bisogna semplicemente andare a valutare bilanciando le varie cose quale sia il paese che più si adatta alla nostra personalità. Detto questo prima di iniziare ti vorrei ricordare che se questi contenuti sono di tuo interesse potresti in qualsiasi momento cliccare il pollice in su che fa tanto bene a me e soprattutto fa tanto bene all'algoritmo di YouTube perché gli fa capire che io sono qui e che tu gradisci quello che vado a dire. Se sei nuovo sul canale, se sei di passaggio ovviamente non ti costa niente iscriviti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nel suo video successivo. Bene partiamo con questo video che è un po' diverso da quello che ho realizzato prima perché andrà subito al punto non andrò a fare magheggi intorno diciamo circolari intorno all'argomento ma vado subito a parlare dei spunti che mi sono segnato e se mi vedi girarmi è perché ho degli appunti così. Per cui andiamo subito a parlare di quello che è la pianificazione della propria partenza. Prima di tutto perché si sta partendo per arrivare in Irlanda? Perché si vuole trovare una situazione economica, una situazione lavorativa migliore. Bene questo aspetto va pianificato. Io quello che non ho mai fatto e che non farò mai è partire per un paese terzo senza avere già il lavoro in tasca. Quello che ho fatto io è questo. Poi ovviamente ci sono tante persone che partono e cercano il lavoro in loco. Ovviamente se si ha una conoscenza scarsa della lingua è inutile dirlo che come ho fatto io quando arrivai qui intelligentemente subito dopo la crisi dei musti subprime è andare a lavare i piatti in un ristorante. Quello che ho fatto io lì, poi ho fatto un po' l'aiuto cuoco e lì diciamo nel frattempo sono andato a migliorare un po' quello che era la mia conoscenza della lingua e andare a lavorare a quel punto in ufficio. Attenzione io venivo già dall'esperienza all'estero nel Regno Unito ma ritornavo dopo qualche tempo otto anni passate a Milano che avevo perso un po' l'orecchio per cui si era perso la parte di ascolto, quella di comprensione che è quella determinante perché noi possiamo anche riuscire a esprimerci bene ma se non capiamo quello che ci dice la gente è un problema in ambito lavorativo. Per questo dico per chi non ha assoluta conoscenza della lingua inglese partire dai cosiddetti ristoranti, pub è la via diciamo primaria. Per cui una volta capito che abbiamo la conoscenza dell'inglese oppure no dobbiamo andare a pianificare la nostra partenza. Prima di tutto dove andiamo a trasferirci, quale città? L'Irlanda non è fatta solo di Dublino ma c'è anche Cork, c'è la sezione vicina a Cork, la cittadina vicina a Cork che si chiama Little Island e adesso andiamo a parlare perché, c'è Limerick, c'è Galway, ogni grande città ma c'è anche dei centri suburbani tipo Tipperary, tutte quelle zone oppure Carey, la zona di Carey, tutte zone che hanno differenti tipologie di business che possono adeguarsi a diverse tipologie di formazione professionale. Per cui partire con un'idea ben precisa della propria professione di quello che si vuole andare a fare quando si arriva in Irlanda è opportuno per capire anche in quale città andare a partire. Ovviamente ci sono delle cittadine che offrono più opportunità lavorative ma che ovviamente offrono più concorrenza. Andare a Dublino o a Cork è differente di non andare per esempio a Galway o a Limerick perché sono cittadini più piccole o anche dove vivo io nella contea di Kilkenny dove la città di Kilkenny che dovrebbe essere un po' la provincia, così se si può un po' paragonare a quello che è la divisione amministrativa italiana, fa solo 22.000 abitanti. Per cui capite bene che il mondo del lavoro di Kilkenny, città ma anche contea è estremamente limitato. Perché parlavo dei vari poli specifici? Perché Dublino, Cork e Little Island, sono quelli che conosco meglio, offrono dei poli specifici. Dublino ovviamente è la capitale del mondo finanziario, soprattutto irlandese, ma anche di alcuni colossi dell'informatica. Abbiamo presente Microsoft, eBay, PayPal e altre aziende specifiche nel settore dell'informatica. C'è anche un grosso polo per quanto riguarda i videogame, ma quello non solo a Dublino ma anche a Kilkenny. Anche una parte cinematografica, se per questo c'è anche il Kenny di animazione cinematografica. Inoltre la parte molto sviluppata a Dublino ovviamente è quella del turismo perché ci sono tantissimi siti archeologici e storici e tantissimo turismo. Per cui dover andare a lavorare nella quella che le chiamano loro hospitality, per cui nell'ambito di ristoranti, bar, guide turistiche, tutto quello che è correlato al turismo. Ad esempio la Guinness Storehouse, che è il museo della Guinness, diciamo cambia personale di giorno in giorno perché arrivano sempre gente nuova che va a lavorare appunto per fare le guide ai vari visitatori che parlano diverse lingue. Ovviamente Dublino offre dei vantaggi molto grandi, ma come ho detto nel video precedente i costi degli affitti sono spropositati e inoltre la concorrenza è spietata. Cork invece è conosciuta anche per un altro polo diciamo più o meno informatico perché lì abbiamo Apple e Amazon che hanno le loro sedi. Per cui da questo punto di vista Cork può essere una varia alternativa avendo dei costi minori in ambito di affitti e anche di costo della vita per chi volesse andare sempre in una grande città, credo che Cork faccia 200.000 abitanti, ma allo stesso tempo possa avere accesso a delle attività, delle probabili attività lavorative in ambito informatico tecnologico. Parlavo anche di Little Island che è un piccolo paesino vicino Cork perché è così considerato il polo farmaceutico di Irlanda. Tutte o quasi le aziende farmaceutiche irlandesi sono presenti a Little Island. Io ci feci anche un colloquio qualche tempo fa alla Ricordati, ma lì si trova di tutto. Per cui chi ha esperienze in ambito chimico, in ambito scientifico, in ambito farmaceutico o medico potrebbe trovare occupazione in quella zona. Questo è da tenere in considerazione perché pur essendoci il polo lì, ovviamente i costi per andare a vivere a Little Island, Cork è vicinissima, sono veramente 10 minuti di macchina, possono essere diversi perché appunto le persone che vogliono vivere nel paesino rispetto a chi vuole andare, visto che Cork sta a 10 minuti, chi vuole andare a vivere a Cork sono diversi. Ma quali sono i siti su cui andare a cercare lavoro in Irlanda? Bene, i siti che ho utilizzato più spesso io sono due in particolare Jobs.ai e Irishjobs.ai. Sono quelli un po' più utilizzati anche a livello irlandese proprio perché offrono la più ampia gamma di lavori disponibili. Irishjobs è un po' più orientato verso delle figure che sono leggermente ma non tantissimo più specializzate, mentre Jobs.ai è più orientato a quelle figure professionali che sono un po' più basilari, ma questo non significa che tutte e due le piattaforme possano essere utilizzate dalle varie tipologie di cliente. Inoltre è molto utilizzato in Irlanda, ci sono anche dei recruiter specifici, ad esempio io quando cercare lavoro in Irlanda, io lavoro nell'ambito delle spedizioni internazionali e della logistica, c'è un famoso recruiter che si chiama LogiSkills per cui andare a cercare dei recruiter, per cui delle agenzie che vanno a fare scouting di lavoratori a livello specifico in quel settore, può essere un'idea molto particolare. Se voi doveste andare a cercare in Irlanda lavoro su un determinato settore, magari fatemelo sapere qui sotto, che vi scrivo nei commenti anche quale è, se c'è, il recruiter specifico per quell'ambito in particolare, perché vi può, diciamo, instradare direttamente sulla tipologia di lavori che state cercando voi, senza andare a cercare nella massa che è enorme. Ovviamente ci sono non solo i vari siti web online, io ho detto comunque Alice Jobs, Jobs.ie, ma abbiamo anche Monster.ie, oppure abbiamo Indeed.ie, ci sono quelli più grandi, ci sono i siti delle varie agenzie di lavoro che sono tantissime e per cui è inutile stare qui ad elencarle perché sono troppe, però ci sono anche dei modi un po' più classici, più tradizionali, i quotidiani. Infatti ogni quotidiano va a pubblicare un determinato giorno della settimana, IVA è la pagina dei lavori, come succede anche in Italia. E a differenza che in Italia, almeno per quello che ho visto io, i giornali qui sono ancora molto utilizzati per la ricerca di lavoro specializzato o comunque di lavoro, perché gli annunci effettivamente sono tanti durante la settimana, quando c'è appunto la pagina specifica. I quotidiani attiratori nazionali sono l'Irish Independent, l'Irish Examiner e l'Irish Times, sono quelli diciamo più utilizzati. Ognuno di questi quotidiani pubblica la propria pagina in un giorno diverso della settimana. Ad esempio abbiamo l'Irish Times che pubblica la pagina dei lavori ogni venerdì, poi abbiamo l'Irish Independent che pubblica sia il giovedì, poi anche la domenica pubblica un insertino piccolino proprio dedicato al lavoro, per cui sono due giorni a settimana, poi abbiamo l'Irish Examiner che lo pubblica ogni venerdì, e poi il Sunday Business Post che esce la domenica e per cui trovate i lavori ogni domenica. Ci sono altre alternative, per esempio ci sono alcuni giornali locali, qui a Kilkenny c'è il Kilkenny Reporter o c'è il Kilkenny Time, ce ne sono tantissimi, per cui se andate a trasferirvi in una città in particolare potete andare a prendere il giornale locale che solitamente è gratuito perché viene finanziato con le pubblicità e andare a cercare in quel periodico appunto i lavori. Solitamente questi giornali locali sono a tiratura bimestrale, mensile, settimanale o quindicinale dipende dalla grandezza appunto del posto in cui andate a vivere. Un'altra alternativa ai vari giornali e diciamo i siti internet, quelli dei recluter o comunque dei siti specializzati per la ricerca del lavoro, sono i siti dell'Eintreo una volta chiamata FAS che è un'azienda, un'associazione diciamo semigovernativa che si occupa appunto del welfare del lavoro e in particolare c'è un sito che si chiama Jobs Ireland, che viene appunto alimentato con i lavori che passano attraverso Intreo. Questa è una cosa molto importante perché questi sono lavori che vengono appunto selezionati da questa agenzia che è semigovernativa e si può addirittura andare direttamente in agenzia e usare il telefono degli Intreo per fare chiamate direttamente ai recluter. C'è una lista con i vari lavori che si vogliono andare a cercare e si può chiamare direttamente a lì oppure sul sito Jobs Ireland.ie andare a cercare le specifiche del lavoro che si sta cercando e andare a vedere appunto se si trova qualcosa che è in linea con le proprie richieste, con la propria professionalità. Ma quando si fa cercare lavoro cosa guardano i recluter in Irlanda? Beh, a differenza che in Italia bisogna stare attenti a un paio di cose. Prima di tutto i recluter irlandesi cercano qualcosina di diverso da quello che cercano in Italia. Ad esempio la lettera di presentazione è molto importante qui. Rispetto all'Italia dove molte volte ho visto che è quasi snobbata, la lettera di presentazione è un vero e proprio accompagnamento al curriculum che serve tantissimo al recruiter a capire o anche all'azienda se andiamo a fare direttamente un application all'azienda direttamente aiuta a capire appunto chi ci sta selezionando se siamo gente volenterosa che ha perso anche tempo a scrivere una lettera per andare a far capire, a trasportare da noi al recruiter quali sono i nostri vantaggi, i nostri obiettivi, i nostri difetti e quello che andiamo a cercare nella nostra posizione lavorativa proprio perché appunto va a creare un piccolo riassunto di quello che siamo noi. Molto molto importante. Un'altra cosa che guardano il curriculum è che una persona che è molto statica e questo anche a differenza nell'Italia che è sempre stata nella stessa attività lavorativa che non ha mai cambiato o almeno questo è quello che ho visto quando io sono andato a cercare lavoro viene vista come una persona che ha poca voglia di cambiare e qui diciamo il fatto di essere molto iperattivi e propensi al cambiamento anche perché nella stessa azienda molte volte può capitare di essere cambiati di posizione più di una volta e se una persona non è mentalmente predisposta all'adattamento alla nuova posizione anche il fatto che questo si ripercuota e si veda dal curriculum è un fatto che va preso in considerazione ecco qui chi cambia tanti lavori in giovane età non viene visto come una persona che non ha voglia di fare ma anzi una persona che ha voglia di formarsi. Ovviamente non tutti i reclutere sono uguali, non tutte le aziende sono uguali per cui sono linee generiche che non si adattano a tutti però quello che è il consiglio fondamentale siate voi stessi perché quello che esce dal vostro curriculum e dalla vostra lettera di presentazione che ripeto è importantissima in Irlanda deve essere quello che voi siete e se andate a trasportare quello che voi siete al recruiter è il miglior modo per selezionare l'azienda che fa più a casa nostra. Un'altra cosa che voglio dire ma che non deve essere assolutamente un invito a venire qui per fare questo tipo di attività è che se si è lavorato in Italia in maniera costante e non si è mai ricevuto un sossidio di disoccupazione quando si arriva in Irlanda è possibile chiedere il trasferimento dei propri contributi che si è versati nel paese di provenienza se si è della comunità europea affinché venga dato il cosiddetto Job Seeker Allowance una quota di circa 200 euro a settimana che permette di sopravvivere nel caso in cui appunto si vada a cercare lavoro e non si scattovare questo è di prassi un accordo che c'è fra tutte le nazioni della comunità europea però ovviamente come ripeto bisogna aver lavorato un tot di anni nel paese di origine non essere mai stato disoccupato e quindi non aver usufruito del sossidio di disoccupazione qui ci sono parametri diciamo stringenti quando ci arriva in Irlanda la prima cosa da fare è richiedere il Personal Public Service Number PPS Number questo è il numero che in realtà sarebbe come il codice fiscale italiano ma è appunto quello irlandese che permette di lavorare e senza di quello non si può fare assolutamente nessun tipo di lavoro perché non si riescono a pagare le tasse e i contributi e di conseguenza non si ha diritto anche a tutti quelli che sono i benefici che appunto un lavoratore dipendente può ricevere in termini di sussidi statali nel caso ce ne sia bisogno è importantissimo quando si arriva in Irlanda cosa fare? beh se si ha un appoggio cercare aiuto nell'appoggio oppure cercare aiuto su alcuni siti specifici uno di questi, uno che ho utilizzato io quando sono arrivato qui era Irlandando che contiene molte informazioni e all'epoca conteneva, non so se lo fa ancora adesso un forum di persone che vivono in Irlanda o che si vogliono trasferire uno scambio di informazioni continuo che permette appunto di capire un po' tutte quelle tematiche che magari in un video così corto non sono riuscito a sintetizzare bene ovviamente questo non è un video che deve essere una guida completa perché ovviamente il mondo del lavoro è un mondo enorme magari posso fare anche qualche video a chi può essere interessato ad esempio sulla tassazione o sullo studio se questo argomento dell'Irlanda e della mia esperienza in Irlanda è di tuo interesse fammelo sapere magari lasciandomi un commento qui sotto e magari lasciandomi dei commenti per farmi capire di quali altri argomenti vuoi che io vada a parlare rispetto a questa playlist sull'Irlanda ovviamente se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciare un pollice in su e se sei nuovo come ho detto all'inizio per favore iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nel suo video successivo anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti bentornati sul canale io sono Pasquale e questo è Risparmio il canale che si premette ciao a tutti bentornati sul canale io sono Pasquale e questo è Risparmio il canale raus iscriviti al canale